È solo la prosecuzione di un progetto politico e di atto di indirizzo preciso di portare la Sardegna all'isola degli sport, dei grandi eventi mondiali, internazionali e nazionali. I grandi eventi portano gente. Io sto facendo un investimento sulla promozione della Sardegna e grazie a questo investimento portiamo turisti e economia. Il guadagno della regione è l'indotto che va ridistribuito per il territorio. I grandi eventi sportivi sono un investimento economico, di ritorno economico per bene alla Sardegna. Abbiamo bisogno di farci conoscere nel mondo e questi grandi eventi con le dirette televisive, con gli investimenti sull'esclusività degli eventi mondiali, oggi la Sardegna si pone agli occhi di tutta, agli occhi delle federazioni, affettibile perché la Sardegna consente di praticare gli sporti utolano.